Lo psicologo ginevrino Jean Piaget ha descritto l'intelligenza, le fasi dell'intelligenza e le ha caratterizzate all'interno di due modalità che sono la prima l'assimilazione e la seconda l'accomodamento. L'assimilazione è quel processo che consente al bambino di incorporare esperienze nuove in schemi mentali che il bambino già possiede. L'accomodamento invece è il processo con cui il bambino, una volta compreso che gli schemi mentali che possiede non sono adatti a fronte ad una nuova esperienza, li modifica in base alla situazione che si presenta a lui. Grazie a tutti.